Come si svilupperà l'iniziativa e perché proprio questo libro? Statera presenteremo Oltre Parigi alla presenza di tre autori del libro, uno dei quali un curatore, il curatore e il professore Salvondò, docente all'Università Core di Enna. Avremo la nostra presenza, saranno con noi anche Aldo Premoli, giornalista, e il professore Roberto Tufano, docente di storia moderna all'Università di Catania. Oltre Parigi è un libro che ha visto la luce pochissimo tempo fa di recente pubblicazione ad un anno esatto dalle recenti tragiche vicende che hanno colpito Parigi, la Francia, quindi insieme alla Francia e all'intero occidente. Quindi è un testo che vede il contributo di sei autori che sviluppano l'argomento del terrorismo internazionale sotto diverse angolazioni, sotto diversi punti di vista e che tocca a noi in quanto cittadini europei in prima persona, ognuno di noi in prima persona, si tratta di un argomento scottante che sembra mettere in ginocchio l'Occidente. Ma cosa significa Oltre Parigi? Gli autori intendono partire appunto dalle vicende che hanno sconvolto la capitale francese il 13 novembre del 2015, ma intendono andare oltre, non per dimenticare ciò che sia avvenuto, ma perché possa essere per noi di insegnamento, perché possiamo comprendere veramente quali sono le cause dell'odio islamico e in particolare dell'ISIS nei confronti della cultura occidentale, delle libertà occidentali. Quindi andare alle radici del problema, radici che sono culturali, politiche, storiche, e quindi per andare appunto oltre Parigi, andare avanti, alzarci dalla paura che ci sembra metterci in ginocchio. Dunque, durante l'iniziativa di oggi si parlerà del fenomeno terrorismo. Allora, invitiamo la gente, oggi pomeriggio, da Chiesetta di San Biagio, a partecipare a questa iniziativa culturale. Sì, vi aspettiamo stasera. Attorno alle 17.30. Alle 17.30, sì. E saranno presenti tutti gli autori. Saranno presenti tre degli autori dei libri.